Isola dei Famosi. La notizia shock di pochi minuti fa. Daniele Radini tedeschi non c'è più. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti. Lasciare un like. E attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Gli appassionati dell'Isola dei Famosi dovranno attendere fino a lunedì per la prossima diretta. Poiché la puntata prevista per giovedì 25 aprile non sarà trasmessa. Nel frattempo, gli aggiornamenti continuano con i daytime. Che mostrano i naufraghi alle prese con la sfida di riaccendere il fuoco. Spento dalla produzione come penalità per aver sottratto cibo. Un'altra notizia ha colpito i fan. Daniele Radini tedeschi, recentemente critico verso Joe Bastianich, è stato temporaneamente allontanato dall'Isola per accertamenti medici. Come annunciato da un messaggio a schermo. La produzione ha promesso aggiornamenti. Alimentando la preoccupazione per un possibile ulteriore ritiro. Dopo i tre già avvenuti in breve tempo. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.